Buonissimo video, oggi andiamo a fare il labirinto, vediamo Di qua si entra, di qua si entra Come dobbiamo seguire Pinocchio, scusa No, no, io davanti, perché dobbiamo registrare, via 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 via, leves Oh, Pinocchio Ah, no, no, di qua non si va da nessuna parte No, 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 nemmeno qua, nemmeno qua Via via Vediamo Guarda, vi porto fuori, vi porto fuori, vi prometto Di qua è chiuso, di qua non si va da nessuna parte Vedrai, guarda, sarà questa strada? Assolutamente no E allora dov'è? Oh, non lo so E allora prima di qua Rimarremo qui dentro Rimarremo qui dentro sicuramente E invece no, e no, invece sì Non ho trovato il posto Andiamo, andiamo, andiamo qua È chiuso, è chiuso lì Allora, andiamo di qua Andiamo di qua E si esce E si esce E no, quel cazzo non si esce in nessuna parte Allora di qua che si esce Eh sì, eh sì, di qua si esce Vedrai, vedrai che adesso Guarda che di qua si esce Vedrai, vedrai che si esce Vedrai Sì, eh vabbè ma è una cagata sto coso però Ma è una cagata di ottobre E niente ragazzi Bella 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 Allora di qua Allora di qua